Io sono Dextrotz DJ e oggi siamo su, scusate che lego, The Veri Organizzi TF, un gioco no ragazzi, veramente bellissimo questo gioco. Insomma noi interpretiamo un ladro che deve rubare della roba all'interno di questa casa e non si deve far beccare la padrone, solo che, cioè io non è che punto tanta roba la roba, cioè punto un po' vabbè, ora vedi, ora vediamo. Allora, vediamo, noi siccome siamo molto, cioè, eh, televisione, bene, vediamo cosa c'è da rubare, eh, chitarra, cazzo è chitarra, vabbè, bene, la chitarra non credo la tenga in cucina, ma, bottiglia, no, ma che cazzo, eccola la bomba, la chitarra, oddio, dev'è la daffa? Stacchiamo subito la luce, vai, tutti i fili a puttane, bene, sì, così lo voglio, poi vediamo, è open, sì, wow, non ho mai vista, la bicicletta. Non ho mai vista il culo se sto qua, perchè entra con la macchina, se entro qua, cap searching, che cazzo. Unorello, forse ci potrebbe servire, sì, poi là giù c'è, vabbè, andiamo via da qua che è meglio, non si sa, poi vediamo, eh, profumo, un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, porca, questo qui, uno, a settimbre, un piccola, fa un culo, un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, che cazzo. mamma mia è il casino che troverà quel tipo il tablet porca troia eccolo andiamo di sopra a vedere va no non è una buona idea a spegnere bene abbiamo rubato tutto tra poco vabbè uuuu si ma che cazzo comunque si bene la luce dove c- ah è vero l'ho tolta vediamo no c'è un cazzo qui dentro uuu i soldi bene quello che ci servono ah pure la c- porca puttana raga barricchiamoci qui dentro sta cazzo di luce ah non è vero l'ho tolta bene uh che casino pick up c'è un'ora va che ci potrebbe servire ma dove cazzo la tiene lui la chitarra eccola che cieco di merda bene porca puttana raga raga qui dentro qui dentro diamante nello d'occhio porca puttana oddio ma che cazzo vuoi oh lascia mi lascia figlio di puttana ah non è possibile si stavo per prendere avvasate vabbè comunque riproviamo ora serio ragazzi che fottiamo tutto bene vabbè cosa che cazzo c'è scritto vabbè comunque un tablet ma che cazzo me ne fotta mi dice sta merda abbiamo qui il tablet che ci serve una chiave vabbè comunque il tablet ce l'abbiamo digital camera profumo questa serve no non serve anche perché dove me la metterei la ps3 raga comunque vabbè vediamo non facciamo saltare la luce perché se no un pc io la prenderei no la prende beh se neanche la luce ma ci fa piacere bene bene via no a vedere mamma mia il tipo come si incazza poi vediamo taser no cazzo dico e io facciamo un po' di pasta siamo già passati qua si si siamo già passati che cazzo facciamo raga non ragioniamo più con la testa si mi piace comunque non c'è un cazzo qui non ci serve non ci serve vediamo se qui c'è qualcosa porca puttana capace di serve questa volta non mi futterai so il cacciati so il cacciaviteroteante ma è vero che scemo vabbè lasciamo lì va chi se ne fotte ma non ci ha trovato una sega ora non ci sta trovando un cazzo di nulla eh ragazzi se non si fa su non troviamo nulla e vai quelle ci non serve dai ma piglialo finocchio sempre come questa non ci serve questa ci serve no non ci serve pure la cassaforta sti stronzi il profumo bene ci fa piacere open bucio di culo ah qui eh 5 5 6 7 5 5 6 7 5 5 6 7 porca puttana dai api mi barico dentro 5 5 5 6 7 fottimi ora ragazzi bisognerebbe scappare quel bottino eh però c'è lui che ci fa il culo mi sa stiamo qui dentro vediamo a stare qui dentro vediamo se ci chiappa o no ma cosa ci manca la bicicletta minchia ce l'ho prima figurine che cazzo mi serve per amore le figurine vabbè porca puttana ma è arrivato vero porca puttana porca puttana scappa 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 no scappa scappa chiudilo dentro scappa 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 dai scappa 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 perché ho spento la luce scappa brutto figlio non la voglio culare ma questa via è una scena la mettere sugli porn vai levati dal cazzo vabbè facciamoci minare oddio ragazzi questa scena la devo censurare non mi apri nemmeno più nulla beh mi sa che dovremmo iniziare eeeh 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 che comunque si eeeh bene sto caio eeeh oddio ragazzi non me lo potete dire dai no dai no non è possibile ma che cazzo ma come si fa adesso bene a me mi mancherebbe un toaster una bicicletta ma se sto stronzo mi va a passare eh si no glielo ah lo volevo spegnere glielo spengo io ecco glielo spente non rompa più il cazzo vada via vada via porca puttana vada via madonna maiala madonna mia madonna scusate ragazzi scusate 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 bene ragazzi l'ho fatto ripartire perché veramente era diventata una scena veramente bruttissima comunque noi ripartiamo eh si capito prendiamo spazio e riprendiamo il nostro lavoro bene eccoci qui vediamo bisogna più a braccialetti musica tv 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 dom per me dove cazzo se la meta comunque tasto più roba che non conosco qui i toaster dovrebbero essere qui non c'è porca puttana la bicicletta ce l'ha da pia? bene no capstarching bellissimo non ci posso credere vabbè comunque bando alle ciance ciance alle bando ho detto una cazzata ma che cazzo vabbè comunque bisogna prendere abbiamo preso sul ma che cazzo mi ho preso vicino ecco bisogna prendere cuscino che ne dici? no scendiamo la luce bene 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 ora non so se ho letto no ma che cazzo un pc lo pigliano fa sempre comodo ora credo c'è qui c'è quella roba vabbè se è tutto su vabbè se meno al cesso non c'è mai nulla vabbè mamma mia il casino ragazzi che troverà il tipo quando entra comunque la mazzetta perfetto questo telefono senza filo no col filo però qua non c'è da più a nulla pronto a mangiare? arrivo mamma aspetta a tv le cuffie mi servirebbe? vabbè comunque ragazzi non riesco a trovare più un cazzo non riesco a trovare eccolo no ma che ragazzi non ho scattuto la prima sicuramente che cazzo è questo rumore? ecco mi sembra dovrebbe essere smesso bene qua ci siamo già venuti ma che cazzo oh la maleducazione dov'è? mi sembra dovrebbe ripartirlo facci un bel culo proprio oh va là no bello oh no l'ho rotto beccato non so quanto mi dispiace guarda porca puttana porca zoccola bene questa è l'ultima partita che faccio perché veramente io sono a poi non mi carica perché ho anche un problema di tempo minchie c'è entrato questo la metto qui vediamo un po' se entra però voglio provare fa una cosa epica fateci la bicicletta se ci sta oh no no così oh no ma sei proprio un mongolo di merda così vediamo se lì fuffi molestatore riesce a entrare bene perfetto io io intanto sto ben attento per vedere se mi chiappa aspettate un attimo uno non vedo un cazzo non vedo ragazzi non sto entrando no ha rovinato tutto vabbè ragazzi il video di oggi finisce qui siamo riusciti a bloccare il nostro molestatore come potete aver visto e niente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace anche un commento e niente ragazzi iscrivetevi al canale e alla prossima